eccoci reportage alluvione o quasi di acqua ce n'è cosa vuoi dire ovunque ecco queste scarpette del cazzo mi sa che ammalavi i pe come domenica acqua 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 pensavo peggio però direi che è sufficiente adesso andiamo a vedere di là un binazzo la non ci arrivo andare a vederlo purtroppo a Grazie a tutti.